Oggi vi parlerò di Spybot Search and Destroy o più brevemente Spybot si tratta di un programma anti-spyware cioè un programma che va affiancato all'antivirus che già avete installato sul vostro computer qualunque esso sia per riconoscere e rimuovere eventuali spyware dal vostro computer gli spyware sono dei software maligni paragonabili ai virus ma non sono propriamente dei virus e quindi a volte possono passare inosservati sotto il controllo del vostro antivirus necessitano perciò di un programma di controllo apposito appunto come Spybot dunque sono venuto su www.google.it e ho digitato già la parola Spybot per cercare in Google il sito da cui poter scaricare questo programma chiaramente si tratta di un programma gratuito come tutti i programmi di cui parliamo sul sito www.infocorsi.it e in particolare questo è un software freeware quindi dopo aver scritto Spybot vado a cliccare cerca con Google appare un elenco di siti è proprio il primo quello che a me interessa mi raccomando assicuratevi prima di cliccare che l'indirizzo sia proprio questo cioè www.safernetworking.org per evitare di capitare in siti imitazione che magari potrebbero farci scaricare qualcosa di indesiderato e anche di pericoloso vado a cliccare quindi il titolo del sito qui e Google mi andrà a reindirizzare sulla pagina di Safer Networking proprio sulla pagina in italiano fortunatamente perché questo sito viene tradotto in realtà in varie lingue qui sulla destra c'è l'elenco dei prodotti di questa casa di software a noi interessa proprio il primo che si chiama Spybot Search and Destroy cioè in pratica cerca e distruggi si riferisce alla sua capacità di cercare e distruggere eventuali spyware dal nostro computer quindi clicco qui eccoci in questa pagina che spiega qualcosa su cos'è Spybot vedete Spybot riconosce e rimuove lo spyware un tipo di minaccia relativamente nuovo che le comuni applicazioni antivirus non contemplano ancora quindi come vi dicevo serve per proteggerci da questi software maligni che alcuni antivirus non sono in grado di riconoscere quindi se scorriamo ora la pagina verso il basso c'è il link necessario per scaricare il file vado a cliccare quindi qui dove dice download per poter scaricare gratuitamente questo programma ed installarlo sul mio computer clicco download e vengo reindirizzato sulla pagina dei mirror i mirror sarebbero i server cioè i computer dai quali è possibile scaricare questo programma come vedete ce ne sono molti sono divisi in varie categorie ci sono questi che vengono definiti mirror principali sono tutte e tre delle aziende staccate diciamo delle terze parti rispetto alla safer networking però io vi consiglierei non perché non sia opportuno fare diversamente ma per mia esperienza personale vi consiglierei di scaricare il file di installazione da uno di questi mirror cioè quelli che direttamente fanno capo all'azienda appunto safer networking vado a cliccare per esempio il primo di questi download here quindi download here scarica qui il nome del file che stiamo scaricando è questo spybot sd160.exe grande 14 megabyte il server da cui le stiamo scaricando è questo tutte informazioni tutto sommato non importantissime vado a cliccare su salva per scegliere dove scaricare il file lo scarico come di solito faccio all'interno della mia pennetta ma in realtà si può scegliere un qualsiasi posto sul vostro hard disk in cui appunto abbiate dello spazio per scaricare dei file quindi qui queste g2 punti è la mia pennetta questo è il nome del file chiaramente è un'applicazione c'è un programma clicco salva e parte il download ora ci sarà da attendere una manciata di secondi interrompo momentaneamente la registrazione la riprendo a download completato eccoci di nuovo in registrazione in pratica nel frattempo il download è stato completato qui dice in quanti secondi lo scaricamento è avvenuto ovviamente la durata del download dipenderà dalla velocità della vostra linea ADSL a questo punto posso chiudere questa finestra e posso chiudere anche l'internet explorer in realtà però è necessario lasciare aperto il collegamento ad internet ora vi spiegherò perché vado intanto in risorse del computer ed apro la mia pennetta che è questa all'interno della quale insieme ad altre cose c'è lo spybot search and destroy quindi il file di installazione adesso provvederò ad installarlo sul computer quindi facendo doppio clic parte l'installazione mi chiede in che lingua la voglio fare io chiaramente la voglio fare in italiano quindi clicco ok questa è la prima finestra che è solo di benvenuto e clicco avanti quindi c'è da accettare i termini della licenza si tratta comunque di un software gratuito quindi non c'è da preoccuparsi di eventuali royalties da pagare vado a cliccare su avanti quindi dopo aver messo questo pallino nero che accetta i termini del contratto vado su avanti mi viene detto in quale cartella spybot verrà installato chiaramente non la cambio clicco ancora avanti mi viene chiesto quali componenti del programma devono essere installati vengono praticamente installati tutti tranne le icone con colori particolari per gli utenti daltonici quindi selezionerete questa opzione solo nel caso in cui doveste avere voi o qualcuno in famiglia il problema in questione quindi vado su avanti qui ci sono ancora delle informazioni che possiamo anche non modificare quindi clicco avanti clicco sempre avanti qui però mi dovrei assicurare che tutte queste spunte siano segnate di solito vengono tutte spuntate così altrimenti ce le mettiamo noi ma dovrebbero già venire tutte soprattutto le ultime due sono molto importanti perché sono i moduli del programma che appunto faranno il controllo quindi se non fossero spuntate queste il programma servirebbe a poco andiamo su avanti e poi finalmente clicchiamo installa ecco come vi dicevo è molto importante che durante l'installazione sia aperta la connessione ad internet perché poi il programma di installazione va come vedete come sta facendo in questo momento va a scaricare automaticamente da internet delle altre parti del programma da installare se non avessimo aperta la connessione non si potrebbe installare il programma stesso quindi anche se prima ho fatto chiudere l'internet explorer però la connessione deve rimanere aperta come vedete ora è già finita l'installazione è stata molto veloce cliccando fine e assicurandomi di avere queste due spunte segnalate in maniera che si avvii sia il programma che è anche il TIA timer che in pratica è il suo modulo di controllo contro gli spyware vado a cliccare fine e il programma comincia già a funzionare qui posso chiudere intanto ecco qua come vedete il programma già inizia ad aprirsi ci viene detto che ha trovato 178 file temporanei che si possono cancellare per velocizzare quindi noi qui rispondendo yes lui va a cancellare tutti questi file temporanei quindi come vedete il software si occupa anche di fare un po' l'ottimizzazione della nostra navigazione in internet perché a volte navigando in internet rimangono molti file temporanei inutilizzati che oltre a poter essere pericolosi perché appunto possono contenere degli spyware potrebbero anche rallentare la nostra navigazione il funzionamento del nostro computer quindi adesso spybot ha già fatto una prima operazione di ottimizzazione del nostro browser e del nostro computer in generale qui clicchiamo ok a questo messaggio senza problemi e appare la finestra della procedura iniziale che è questa qui in pratica in questa finestra in pratica in questa finestra ci sono le operazioni iniziali da fare alla prima apertura dobbiamo qui poi c'è tutto ben spiegato se andiamo a leggere le voci dobbiamo creare un backup del registro di sistema in maniera tale che spybot memorizzi il registro di windows allo stato attuale delle cose perché poi si possa ripristinare al suo stato iniziale qualora in futuro subissimo delle infezioni da spyware e quindi è importante fare questo backup e io clicco qui ci vorrà qualche istante poi ci avviserà lui stesso quando avrà finito di fare questo backup del registro di windows ecco una volta che il backup è stato completato torna ad essere verde qui la freccina che dice successivo quindi posso passare al secondo passaggio che è molto importante perché è quello della ricerca degli aggiornamenti del programma chiaramente come ogni antivirus o comunque ogni anti malware spybot ha bisogno di aggiornarsi periodicamente vi spiegherò poi che sarà necessario fare degli aggiornamenti manuali diciamo almeno una volta a settimana per ora questa è la prima procedura di aggiornamento poi vi farò vedere quelle successive come andranno effettuate clicco quindi qui cerca aggiornamenti attendo qualche istante dovrebbe apparire un'altra finestra eccola in questa finestra c'è l'elenco dei siti dai quali si possono scaricare gli aggiornamenti in realtà spybot ne seleziona uno a caso già in automatico possiamo tranquillamente lasciare quello e cliccare continua qui c'è l'elenco degli aggiornamenti disponibili sono già selezionati quelli più importanti ma io andrei a selezionare anche tutti gli altri tanto non ci costa niente solo qualche istante in più di attesa nello scaricamento quindi dopo aver selezionato tutti gli aggiornamenti disponibili vado a cliccare scarica e attendo attendo appunto che questi aggiornamenti vengano scaricati ed installati nel programma ecco come vedete man mano che appaiono queste piccole iconcine verdi vuol dire che gli aggiornamenti sono stati installati ora è stato installato il primo e verranno installati anche gli altri nel frattempo interrompo un po' la registrazione e la riprendo alla fine dello scaricamento eccoci di nuovo qui quando gli aggiornamenti sono stati tutti scaricati ed installati e quindi come vedete sono apparse tutte queste icone verdi che appunto ci danno conferma del buon esito delle operazioni c'è un messaggio che dice che dopo questo aggiornamento bisognerà riapplicare l'immunizzazione e anche effettuare una scansione completa sono due operazioni che tra poco vi spiegherò come fare due operazioni fondamentali perché spybot funzioni e ci protegga veramente contro gli spyware quindi clicco su ok e posso uscire dalla finestra degli aggiornamenti si dovrebbe adesso avviare lo spybot infatti c'è di nuovo questa finestra che ci parla ci dà un avviso al quale possiamo tranquillamente cliccare ok ora senza stare a spiegare a cosa si riferisce diamo ok appare la finestra principale del programma finestra che ora si è aperta automaticamente perché si è avviato il programma subito dopo dell'installazione ma se io la chiudo e volessi riaprirla la si può aprire tranquillamente da questa icona che è apparsa sul desktop chiaramente icona che appare in seguito all'installazione che abbiamo eseguito quindi vi ricordo che abbiamo scaricato il programma lo abbiamo installato abbiamo effettuato il backup del registro e nonché i primi aggiornamenti dopodiché il programma è funzionante ora vado a riaprirlo dalla sua icona quindi stessa operazione che faremo in qualsiasi momento si vogliano fare dare dei comandi a spybot faccio doppio clic e finalmente siamo tornati nella sua finestra principale dunque qui si possono fare varie operazioni abbiamo già visto l'operazione della ricerca degli aggiornamenti che si può attivare sia da questo pulsante che da quest'altro è la stessa cosa ricordatevi che gli aggiornamenti quindi con quella stessa procedura che abbiamo fatto poco fa vanno ripetuti almeno una volta a settimana quindi decidete un giorno della settimana che volete utilizzare per questa cosa e ricordatevi tutte le settimane di scaricare gli aggiornamenti aprendo spybot dall'icona sul desktop e poi usando o questo pulsante o quest'altro questo è indifferente dopodiché dopo gli aggiornamenti è sempre opportuno applicare l'immunizzazione e quello si fa da questo pulsante infatti se lo vado a cliccare appare questa finestra attendiamo che faccia le sue analisi spybot in pratica ora ci avvisa esaminando i browser installati sul nostro computer ci avvisa di quante possibili minacce ci sono a causa appunto di mancanza di protezione all'interno dei browser e addirittura in questo caso avendolo appena installato ha trovato circa 72.000 possibilità di intrusione nel nostro computer quindi 72.000 porte aperte per eventuali software maligni lui ora si occuperà di chiudere tutte queste porte porte che sono all'interno dei software che normalmente usiamo per navigare in internet quindi sia l'internet explorer che qui vengono elencati gli elementi non protetti sia anche sotto eventualmente altri browser installati qui per esempio c'è opera notate come abbia trovato molte meno porte aperte in un browser più sicuro come opera e molte decine di migliaia invece all'interno di un browser meno sicuro come internet explorer comunque sia cliccando il tasto immunizza ora sia quelle poche porte aperte quei pochi buchi nel sistema di opera sia quei molti buchi nel sistema di internet explorer verranno chiusi quindi clicco qui ancora immunizza avevo prima cliccato questo ora clicco quest'altro per chiudere e proteggere tutti i buchi trovati aperti quindi come vedete quei numeri rossi diminuiscono e man mano aumentano quelli verdi appunto per assicurarci che tutti i buchi riscontrati vengano chiusi e non possano essere sfruttati da software maligni hacker e quant'altro vedete che man mano si stanno chiudendo tutte le porte tutte le minacce possibili finché ad un certo punto il numero rosso diventa zero va bene cioè non ci sono più rischi nel sistema almeno la stata attuale delle cose ma vi ricordo che ogni settimana quando farete gli aggiornamenti cliccando cerca aggiornamenti dovrete ripetere l'immunizzazione perché probabilmente spybot in base ai suoi aggiornamenti quindi ai nuovi spyware che vengono scoperti e conosciuti scoprirà nuove porte aperte nei vostri browser e quindi dovrà chiudere anche quelle quindi questa operazione di immunizzazione va ripetuta sempre ogni settimana subito dopo l'operazione di ricerca ed installazione degli aggiornamenti dopodiché sempre consiglio di farlo una volta a settimana andrebbe fatta anche una scansione di tutto il computer per essere sicuri che non ci siano già degli spyware entrati quindi le operazioni principali con spybot sono installazione degli aggiornamenti immunizzazione e poi la scansione la scansione si fa proprio dal modulo principale quello che si chiama search and destroy cioè cerca eventuali minacce e distruggile vado a cliccare su search and destroy e poi faccio avvia scansione in questo modo partirà la scansione del computer che alla fine ci dirà se ci sono o meno delle minacce ora la faccio partire cliccando qui e poi bisognerà attendere ora questo potrebbe durare circa 15 minuti di conseguenza andrò ad interrompere la registrazione e la riprenderò soltanto quando la scansione sarà finita per spiegarvi cosa c'è da fare una volta finita la scansione come vedete in questo caso non sono state riscontrate minacce particolari quindi appare questa spunta verde che dice complimenti non sono state riscontrate minacce immediate di conseguenza non c'è nulla da fare tutto va bene non ci sono stati problemi nella scansione del computer se invece fossero apparse delle segnalazioni in rosso anziché in verde chiaramente si riferirebbero a spyware o comunque programmi maligni installati sul vostro computer per rimuoverli sarà sufficiente cliccare questo tasto che dice correggi problemi selezionati chiaramente ora lo vedete grigio perché non sono stati riscontrati problemi ma se fossero apparse delle segnalazioni in rosso questo tasto sarebbe attivo e basterebbe cliccarlo perché automaticamente spybot possa poi distruggere tutto ciò che di maligno è stato riscontrato quindi questo è l'utilizzo principale di spybot con queste tre sue funzioni principali cioè quella della ricerca di aggiornamenti l'immunizzazione e poi la scansione che abbiamo fatto dal tasto search and destroy cerca e distruggi vi mostrerò adesso in seguito altre due funzionalità più semplici e comunque utili di spybot comunque sia per tutte le altre cose che riguardano l'uso di questo programma basterà consultare la guida in linea appunto sul menu guida oltre alla guida in linea totale c'è anche un corso accelerato cioè una guida ridotta per chi non ha tempo di leggere quella completa per scoprire meglio come funziona questo programma un'altra funzionalità importante dello spybot è quella di proteggere le impostazioni basilari del sistema da eventuali cambiamenti non autorizzati per esempio ci sono alcuni spyware che cambiano automaticamente lo screensaver oppure la pagina iniziale dell'internet explorer sostituendoli con cose poco gradite è per questo che ogni volta che noi stessi andiamo a modificare una di queste impostazioni di sistema spybot ci chiede conferma se veramente questa impostazione deve essere cambiata o meno per esempio se in internet explorer vado a cambiare la pagina iniziale cliccando su strumenti opzioni internet e quindi per esempio al posto di google ci mettesi yahoo e do l'ok subito dopo appare una finestra è questa come vedete sulla barra del titolo c'è scritto spybot search and destroy quindi non è una finestra dell'internet explorer è spybot che ci sta chiedendo se vogliamo consentire o negare questa modifica la modifica è scritta poi sinteticamente sopra cioè nella categoria browser cioè appunto programmi per navigare in internet c'è un valore modificato esattamente si tratta del valore start page cioè pagina iniziale che è stato cambiato da google a yahoo quindi c'è tutto il riassunto di ciò che è stato fatto noi dobbiamo solo decidere se consentire o negare questa modifica chiaramente ora l'andiamo a consentire perché siamo stati noi a richiederla se fosse apparsa invece questa finestra all'improvviso senza nessun comando da parte nostra evidentemente dovremmo avere il dubbio che fosse stato magari uno spyware o qualche altro programma non autorizzato a fare un cambiamento simile quindi in quel caso cliccheremo nega modifica ricapitolando quindi tutte le volte che diamo un comando e spybot ce ne chiede conferma clicchiamo consenti se invece esce questa finestra senza che siamo stati noi a dare un comando allora negheremo sempre la modifica nel dubbio certamente è sempre meglio negare bisogna specificare che questa finestrella uscirà sicuramente durante l'installazione di altri programmi quindi ogni volta che installerete dei programmi nuovi se c'è spybot installato spesso usciranno queste finestrelle ma chiaramente durante l'installazione di un nuovo programma che sapete essere sicuro dovete sempre cliccare consenti modifica tutte le volte che spybot ve lo chiede ripeto cliccherete nega modifica solo quando questa finestra appare senza che voi abbiate avviato un'installazione di un programma o senza che abbiate dato un comando specifico in quel caso ci deve essere il dubbio che ci sia qualche programma non autorizzato che sta svolgendo delle operazioni appunto non autorizzate e che quindi vanno negate dunque adesso clicchiamo consenti modifica e quindi la start page la pagina iniziale è stata realmente modificata un'altra cosa importante dello spybot è il cosiddetto tritatutto è una delle funzionalità secondarie dello spybot vado subito a mostrarvelo apro lo spybot con un doppio clic quindi la finestra principale del programma ed una volta aperta vado a cliccare la voce che mi permette di andare quindi da modalità di andare sulla modalità avanzata quindi ricapitolando ho cliccato modalità modalità avanzata in questo modo qui rispondo di sì appaiono questi pulsantini qui sotto che prima non c'erano e che mi danno la possibilità di accedere a tutte quelle funzionalità di spybot magari meno utilizzate ma che comunque possono essere utili tra le utilità trovo una voce che dice tritatutto se vado a cliccare il tritatutto non è altro che un sistema che mi permette di cancellare file in maniera definitiva perché quando cancelliamo un file buttandolo nel cestino e anche svuotando il cestino in realtà con degli appositi programmi è sempre recuperabile quindi se ci sono dei file riservati che vogliamo cancellare definitivamente in maniera che mai nessuno in futuro possa essere in grado di ritrovare questi file bisognerà usare questo tritatutto di spybot ci sono poi anche altri programmi che fanno questa cosa però avendo lo spybot non c'è bisogno di installarne altri possiamo farlo con loro con lui quindi per esempio supponiamo di voler cancellare un particolare file andrò su add file to the list cioè in pratica aggiungi un file alla lista alla lista appunto dei file da cancellare clicco qui mi si apre una finestra che mi chiede qual è il file che voglio cancellare supponiamo che si tratti di un file che ho nella cartella documenti quindi senza stare a cambiare cartella e che in particolare sia il file tecnologia appunto ppt lo vado a selezionare e lo apro in pratica il file si aggiunge come vedete con tutto il suo percorso al tritatutto di spybot in questo caso mi basta cliccare chop it away cioè appunto tritalo mangialo masticalo sarebbe in maniera tale che spybot masticherà triterà questo file che non sarà mai più recuperabile né dal cestino né con nessun altro software quindi è una funzionalità interessante sicuramente meno utilizzata ma che ci può servire per eliminare file o cartelle che contengono dati riservati e che non vogliamo lasciare né in maniera palese né in maniera nascosta recondita all'interno del nostro hard disk sul nostro computer e quindi clicco chop it away in questo caso esce scritto done cioè fatto in maniera tale che si capisca che il file è stato masticato è stato tritato cancellato completamente queste sono le funzionalità di spybot che mi interessava mostrarvi in realtà il programma ne ha molte altre vi rimando alla guida in linea per scoprire altre possibilità di questo semplice ma indispensabile programmino arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti